La 68esima Coppa Don Deo riservata alla categoria Juniors che si è corsa in quelle di Cremona ha visto una bella partecipazione di ragazzi alle via. Una manifestazione che si concluderà con uno sprint a ranghi compatti e con ancora per una volta la vittoria di un corridore della società veronese Cipollini-Assali-Steffen. Tra poco andremo per le conclusioni. Eccoci sul traguardo, ha lanciato lo sprint affollato con Enrico Zanuncello che precede benissimo Zanni, poi Ferri, Cima, Belotti, Giacomelli, Manzoni, Cesaro, Giordani e Rocchetta che termina al decimo posto. Vediamo intanto l'atleta Zanuncello esultare per la gran bella affermazione.